benvenuti 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 è fuoricino oh sono morto aiuto aiuto abbiamo avuto dei problemi anche qui si non so se l'hai vista ma c'era Miss Forkham che ti attaccava abbiatamente dal lato a domani guarda mi sa che ci hanno inculato male no dai è morto pure amasa raga bello start tanto il mio Yasuo Stop non ha preso nulla ahahah cazzo c'è qua la scimmia c'è qua la scimmia buono c'è la scimmia c'è la scimmia oh eh quella l'ho lasciata a casa oh manca cosa fai abbiate questi ciao mamma mia ma sono una volta so forte god guarda che sei farmato da sch- no perchè lui ha farmato peggio di me eh eh vabbè ma perchè sei timido no 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 dai dai no ma ho la mamma non ci creda che quella ti è salvata dai oh io non c'è faccio una partita a settimana lol quello perchè stream snake quella partita proprio no deve essere sofferta oh oddio mio sei morto sei morto no 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 ma pure flashato no 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 oddio ma morite guarda quanta vita sotto mori mori no manca io su è vita è vita è viva io non ci credo presa mi muro un secondo poverino aio 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 no no dai ma come mi ha ucciso raga la uccidete la uccidete easy no perchè ha pure il lato no dai sempre con hp questi c'hanno culo vero comunque madonna basta beh su che raga vivissimi alla madre che deve essere una santa donna 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 affetto donna 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 c'è staccata madonna sei il butto perdila amara cc troppo di bottiglia come via su cavolo eh la presa la presa staccata ma quella ulti è un po' così vabbè ragazzi non qui lì in bot baron baron ah no cazzo me la botta no raga andiamo qualcuno in bot mi segua eh no c'è oh nico 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 holy shit in human reaction hehehehe ci sono ci sono ci sono facci c'è un inferno beh a me no 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 ma fa culo ma deve un scuidio spazio cos'è lol adesso voglio vendicarti io come ho filato le combo frate guardami frate guardami ti sto guardando ti sto guardando ma sei un angelo sei un angelo guardati ma dove è masa? vaci vaci masa non può scapparti non scappa non scappa frate devi vendicare sia me che snake si sa che scappa masa quella ha messo il nos Vin Diesel gli ha fatto una pippa a quella ahahahah infatti l'ho già uccisa quella bravo dove cazzo è quella sciglia del merda ahahahah eccolo lì attiva la ultima attento attento masa attento aspetta aspetta la gang non si è f***a ma oddio oddio 1v4 1v4 dentro masarone masarone incredibile impazzito aiutate aiutatelo cazzo scappate raga vai vai è cazzo durissima ma come è masco la vita ho 5 fps non c'è so che io cazzo oh madonna masarone 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 porca puttana che cazzo ho fatto ragazzi ma quello è masarone o italian dog oh te la stavo per stila scusi mi non avevo visto essere in quadra no vabbè ero in triple una me la stilata masa ma è che però stilata sai come mi sono buttato in mezzo vabbè ma sti cazzi non c'è capito più un cazzo tutta tutta la rabbia proprio tutto il malore che c'ho dentro mi venivano in quattro ma io faccio quattro bastardi ma io sono uno scudo che scala con la D lol ogni secondo che schifo mi ne vado pure back se io sono entrato in questo c'è spuglio qua seguendo gli azioni mi sono trovato katarina e mi sforzo cazzo durissimo raga mette cose qua mi compro pure l'MC spada così faccio danni ad altri ki-buzz no ce l'ho visto ma che cazzo vuoi fare? la tossica raga qua raga aiuto eh ma è un po' grazie eh qui snake lo sarebbe cazzo dove l'ho salvato frate questo non lo so se ce la facciamo però eh come frate dai bene inizia a skillare ok vogliamo fightare o andiamo back? andiamo back guarda io ce l'ho perdita back 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 aspetta aspetta vediamo what the fuck cosa gli hai fatto? eh a me mi hanno distrutto e poi c'è il team mi si è detto al dottor che te inizio non muo eccola la masa è arrivato masa no niente no masa non è arrivata perché volevano andare back è vero dovevano andare back è vero abbiamo perso cioè loro finiscono il game ora no finire no però c'è un inibitore due torri c'è due inibitori sicuro e non so neanche se la finiscono però potrebbero cazzo abbiamo perso cioè noi abbiamo preso baron e drake per andare a ah ma c'è pure chiasco si abbiamo perso easy non ho capito perché avete voluto fightare che siamo degli ignori vabbè gg ok non si può è stato comunque un bel game dai cazzo si è vero mi sono veramente rattestito dopo questo game però però sono soddisfatto di come ho giocato gata non me lo aspettavo e comunque io la good victory quello sempre sempre comunque è stato un bel game